Il fatto che è stato chiamato in causa per un paio di volte, anzi tre volte, il professor Corlecchio. Lo dico perché? Perché al centro della nostra vita, e speriamo che sia così sempre, c'è la meritocrazia. Il fatto di non essere qui o di aver smesso alcune funzioni, o perché la vita e la nostra professione ci hanno portato un po' lontano dal focus, non significa che non rimangano i meriti e i riferimenti. Questo lo dico perché questo tipo di incontro e questi incontri postano poche le basi, come immagino, per soluzionare certi problemi. Non è tanto il problema delle province e dei comuni, quanto, l'ho detto in apertura, un'idea certa. Quello che in questo paese si deve modernizzare è vecchio, è un paese che ha bisogno di l'infa vitale nuova. E qui ritengo che vi siano le forze giuste. Ho finito di parlare. Ho detto un giovane emergente, lo stesso lo diciamo da Alfonso, nonostante abbia una lunga carriera, ma è giovane d'età, l'anagrafe non lo accusa come accusa me. Lo stesso dica sì di quellino testa, giovane emergente, anche se non farà più il presidente della provincia, perché la stessa Alfonità può guardare molto lontano. Mi scusami per questo inciso, per questa parentesi, ma mi dà la possibilità di riprendere un discorso molto importante. La distanza che c'è tra i cittadini e il palazzo. Quando parlava l'amico stanziale dell'Europa dei cittadini, certamente pensate anche a questo. È un momento molto brutto, molto difficile. Il governo dei tecnici c'è, perché vanno a rapporto la politica, quindi è molto importante chiarire come possiamo arrivare ad un'Europa dei cittadini, anche perché poi questo incontro si chiuderà. Io faccio il giornalista, non mi posso esimere dalle tentazioni quello che alla fine dovrò fare una domanda sul porto. Ahimè, lo dovrò fare. Quindi io direi che Corino Testa intanto vorrei sollecitare a parlare di questa distanza che c'è, come ritiene lui che si possa avvicinare sempre più il cittadino all'Europa, prima al Comune, alla provincia, alla regione, all'Europa. Presidente. Ma questa è una risposta a cui dare una domanda, a cui dare una risposta precisa e difficile. Perché se pensiamo, mi riferisco alla mia provincia, quanto possa essere distante un abitante di Salle o di Corvara, già la provincia stessa o la regione, figuriamoci a Bruxelles o a Strasburgo. Ovviamente questo è un problema che fa il paio con quello che diceva prima chi mi ha preceduto, penso a Camillo, quando diceva provincia è l'intervento. Noi non dobbiamo pensare solamente all'Abruzzo, dove ha una densità abitativa di circa 1 milione, 1 milione e 300 mila abitanti, ma pensiamo alla Lombardia, dove il Comune che dista centinaia e centinaia e centinaia di chilometri dal capoluogo, il piccolo Comune quanto possa avere difficoltà, se non ha un ente intermedio come l'ente provincia, a parlare con il Presidente della Regione. Quindi a volte noi non dobbiamo pensare solamente alla nostra realtà, ma dobbiamo pensare alla realtà composita e 20 regioni. Ovviamente oggi parlare dell'Europa, l'Europa è nell'agenda di tutti i Comuni, oggi anche il Comune più piccolo vede un'Europa che deve essere in qualche maniera spremuta per attingere finanziamenti, perché oggi l'Europa viene vista forse come il primo bersaglio da attaccare, in quanto oggi io parlavo all'inizio la mancanza, l'esimità di risorse finanziarie, fa sì che se puoi fare qualcosa per la tua comunità, se non c'hai possibilità economica, se non puoi ricorrere all'indebitamento, perché poi anche io ovviamente saluto il Professor Correreg, che fino a pochi anni fa era stato anche il Direttore Generale di questo ente, non puoi ricorrere a strumenti finanziari innovativi, perché poi c'è un livello di indebitamento il quale non puoi andare, c'è questo fastidiosissimo patto di stabilità che forse i cittadini non conoscono, anche noi politici spesso lo conosciamo, con il quale tu devi fronteggiare, quindi devi cercare di trovare delle vie riuscite e queste vie riuscite che può consentire sulla parte d'Europa. Però è facile dire durante le campagne elettorali che si punterà molto sui bandi europei, si punterà l'Europa, però dopo quando calli, ti calli nella realtà, che vai a governare, vedi che poi l'Europa c'è una rincorsa, tutti corrono verso Bruxelles, per attingere le risorse, però pochi sono quelli che hanno la possibilità di portare avanti alcuni concetti. Oggi io ritengo che ci sia ancora molta strada a fare per far sì che i cittadini si sentino cittadini europei. Non c'è ancora questo spirito europeo che allenge su tutti noi, c'è ancora una distanza siderale, anche perché io ritengo che molti, non solo i cittadini, ma anche noi addetti lavori, non conosciamo in maniera precisa quali sono le funzioni d'Europa, cosa fa un ministro europeo, quali sono le idee che i nostri eletti in Europa possono sfruttare e possono in qualche maniera le levi che possono azionare. Quindi si deve ancora fare molto sotto questo aspetto. Però in un periodo complicato, come diceva giustamente il direttore Lapparile, dove l'Europa va in qualche maniera anche dall'alto a gestire i vari, i vari parametri, i vari equilibri, i vari meccanismi nazionali, l'Europa non deve essere un contraltare, nemmeno un nemico, ma deve essere un amico con il quale deve interfacciare, quasi un po' chiaramente, perché poi le sorti di una nazione non prescindono da quello che accade nel resto della comunità europea. e lo stiamo vedendo come negli ultimi mesi soprattutto il futuro dell'Italia, il futuro della Grecia, il futuro anche di nazioni che, sino a qualche mese fa, avevano, diciamo, orbitavano su altre direttrici, non avevano problemi, oggi sono stati tirati in ballo dall'Europa dei problemi che l'Europa ha quindi devono in qualche maniera lavorare e qui c'è il discorso di sussidiarietà, di solidarietà, di cooperazione che ci deve essere all'interno, tra le varie elezioni. Quindi io dico, e mi accingo alla conclusione di questa seconda battuta, come l'Europa è fondamentale, però la cultura Europa deve essere ancora alimentata e deve essere ancora conosciuta. Ringraziamo il Presidente di Testa. Passo la parola a Luciano D'Alfonso, naturalmente ho già detto sull'Europa dei cittadini, di questa distanza che c'è purtroppo tra i cittadini dell'Europa, sono convinto che D'Alfonso da par suo ci dirà, rifletterà con tutti noi. Mi ha convinto molto anche questa seconda parte del nostro confronto. Questo evocare l'Europa ci costringe a tematizzare quello di cui disponiamo. C'è un'associazione di comuni e regioni d'Europa che si chiama AICRE, che nella sala di riunioni e di lavoro c'è una bellissima immagine del fondatore di questa associazione, è l'omologa del Lanci, Lanci è più conosciuta, ma esiste con pari dignità l'AICRE. Il fondatore è Umberto Serafini. Serafini aveva un incoraggiamento, un incoraggiamento, una specie di imperativo categorico che rivolgeva gli amministratori. Non andate in Europa a caccia di soldi, cercate in Europa la cultura europeista. Quello che serve dell'Europa è la cultura europeista, cioè la cultura del progetto. La cultura del progetto è la cultura che consente di estrapolare da chi ha responsabilità pubblica tutte le opportunità che ci sono. Ma la cultura del progetto riesce ad estrapolare, ad attingere tutte le opportunità anche dal sistema privato. Qual è la rivoluzione che è venuta in onda in Italia, in Europa, in Finlandia, in Spagna? C'è stata una specie di equiparazione in ordine ai doveri collettivi tra le risorse finanziarie, le risorse normative e le risorse private. Qual è però il fattore di cui si avverte il bisogno? Qual è la mancanza? È la mancanza di un elemento direttorio o direttore. L'elemento direttorio o direttore deve essere il progetto di cammino in avanti che ha una tale capacità da convincere tutti di che parlo? A cosa mi riferisco? Per esempio, di quale progetto si dovrebbe parlare in Abruzzo? In Abruzzo si dovrebbe parlare di un progetto ed è per questo che scherzosamente io me la prendo con l'albarile anche nelle trasmissioni dell'albarile perché l'albarile è capace di andare oltre la geografia non la geografia la geografia siccome io conosco la sua intelligenza non mi piace vederlo con le gambe a cavaccioni lo voglio vedere al lavoro a stimolare la classe dirigente non a fotografarla la classe dirigente c'è bisogno di stimolare la classe dirigente a produrre il progetto un progetto che revisioni l'architettura interna dell'Abruzzo e l'architettura esterna spero che il guerino non sia no no non è andato però sono convinto che mi sente perché ho visto una persona che di sicuro glielo racconta quindi va bene così l'architettura interna deve rivedere l'articolazione delle province al di là della numerazione sapete qual è stato il momento nel quale meglio ha funzionato l'Abruzzo sul piano della corrispondenza istituzioni territorio cittadini ai tempi di Federico II quando l'Abruzzo era diviso in due Citra e Utra e non era due marche di vino una volta il fratello di un importante consigliere comunale me lo scambiò per due marche di vino era una fotografia formidabile dell'assetto possibile dell'Abruzzo e la capitale era Sulmona e la capitale in Sulmona venne stabilita non per fare un dono alla bellezza di Sulmona perché Sulmona aveva una posizione formidabile rispetto ad un'infrastruttura importante dell'Abruzzo che è l'acqua del fiume l'acqua del fiume Aterno-Pescara perché è l'unico elemento che unifichi l'Abruzzo l'acqua del fiume Aterno-Pescara che nasce nel Terramano guadagna muscoli all'altezza di Santi all'Aquila si irrobustisce in provincia di Chiedi e si conclude a Pescara con il mare quel fiume disegnò l'architettura per Federico II noi dobbiamo pensare a due province l'una che tenga conto dell'economia dell'identità delle ambizioni dei poteri della montagna e l'altra che tenga conto delle grandi opportunità dell'economia dei luoghi dell'identità del mare ma chi ci deve pensare a questo? La procura chi ci deve pensare o la politica io ho sentito un presidente candidato di regione che diceva assicuro una webcam una camera tecnologicamente attrezzata che registrava tutto e tutti una specie di facilitazione del lavoro inquirente ma qual è il nesso tra questo attrezzo tecnologico e quello di cui ha bisogno una regione per camminare al futuro c'è bisogno di produrre idee di intercettare le idee e poi di nutrire con le idee il progetto vedete l'architettura interna è questa l'architettura esterna è quella che evochi un'alleanza di regioni ma vi pare che ha ancora un significato tenere distinte Molise e Abruzzo e non stringere la mano alle marche e non fare patti insieme il che non significa rinunciare le carte intestate il che significa fare Moro parlava quando parlava di Europa di Europa a due velocità parliamo di segmenti di geometrie differenti di alleanze ma la ferroviarizzazione ulteriore di cui ha bisogno questa regione chi ce la dà? la procura o ce la dà il progetto l'ulteriore ferro di cui ha bisogno questa regione e ce la dà il progetto di alleanza Molise Abruzzo in marche 135 milioni di euro l'anno vengono dati a ferrovie italiane per soddisfare la domanda di servizio da parte di ferrovie italiane che viene posta dalla comunità abruzzese e poi c'è quello che viene dato dal Molise e poi quello che viene dato dalle marche e perché non lo mettiamo insieme e non facciamo una trattativa intelligente che postuli anche l'ulteriore infrastrutturazione col potenziamento dell'offerta qual è la cosa più importante per un cittadino oggi? io mi sono segnato tre appunti la qualità della vita oggi nel rapporto sistema regione o sistema istituzionale ambizione appetito aspettativa di cittadinanza secondo me si può postulare con queste quattro categorie accessibilità della conoscenza natalità imprenditoriale velocità negli spostamenti e lettezza dei rapporti umani per quanto riguarda gli spostamenti ma crediamo ancora alla gomma individuale o alla gomma multipla collettiva non vi pare che la qualità di un territorio deridi dalla qualità e della quantità dell'offerta ferroviaria e come accade questo con quel dibattito incomprensibile FAS Masterplan FAS Masterplan giorgianesi in dialogo perenne ma stiamo scherzando un intubamento in un dibattimento che non si capisce una volta un assessore regionale mi ha detto sono rimasto dispiaciuto perché tu non ci difendi io gli ho detto per una sola ragione che non capisco quello che fate e guardate anche per le istituzioni esiste una domanda terribile è la domanda delle convenienze le istituzioni si giustificano se producono convenienze ma non c'è bisogno di arrivare ad OBS per questo le istituzioni riescono a determinare obbligatorietà politica se producono convenienze utilizzazioni utilizzabilità la provincia di Teramo con Claudio Ruffini presidente sembrava che fosse il governo di sua maestà e il regno di Britannia perché le cose le pensava le progettava e le faceva e poi c'era la comodità ulteriore ed è chiaro che gli lo votavano tutti e lo hanno votato anche davanti a strappi perché percepivano di lui quello che lui aveva fatto ha avuto la fortuna di donare davanti a sé gli invidiosi perché poi se incontri gli invidiosi si rallenta il lavoro si blocca anche l'entità della sfida l'alleanza dei territori Abruzzo Macche e Molise pensate voi al corridoio Adriano pensate voi all'invalidità dei nostri porti noi non possiamo arrivare a produrre un'autorità portuale perché ci manca il tonnellaggio considerati nelle nostre separatezze e se ci mettiamo insieme e se ci mettessimo insieme a che serve mettersi insieme a partecipare al piano di riparto dei fondi nazionali per le manutenzioni per le valorizzazioni per la commercializzazione dei nostri porti guardate che nei nostri porti a parte il problema che si vede c'è anche un piccolo problema micidiale la gestione degli oli esausti e non c'è un soggetto che si occupi degli oli esausti per dirvi che quella è una landa deserta e desolata cercata senza nessuna possibilità di funzionare perché non c'è nulla che attrezzi io da consigliere regionale e poi da sindaco ho fatto una proposta di legge per insediare l'agenzia portuale regionale che stabilisse ad ogni nodo una risposta concludo ma è impossibile promuovere la logica del patto 30 anni fa tutto si faceva in maniera autoritativa qui c'era un vice segretario regionale molto bravo che si chiamava Pasquale Tribuzio mi si prendeva sotto le sue cure e mi spiegava che cos'è l'atto potestativo oggi l'atto potestativo non serve più non vale più non lo cerca più nessuno è incapace di produrre effetti oggi l'atto che vale è l'atto che procede produce concertazione convergenza a Milano non si parla più del piano regolatore che produce come le mitraglie le concessioni edilizie ci sono i piani strategici che mettono insieme risorse pubbliche e risorse private facilitazioni semplificazioni questo però pretende la dimensione della politica non solo la tecnicalità concludo davvero vedete mi piacerebbe tanto che si facesse un dibattito ripreso anche dalla televisione anche da quella fantomatica webcam e davanti a questo dibattito la domanda campale dovrebbe essere se tu potessi fare una sola cosa quale sarebbe la cosa che tu faresti con una bacchetta magica questa è una bella domanda con questa domanda per esempio hanno fatto fuori fiori di candidati sindaci e presidenti di regione in Spagna a Pasquale Maragai vi hanno chiesto lei se dovesse fare una cosa e su quella cosa lei dovesse essere giudicato quale sarebbe la cosa che lei farebbe e che io su questo la voglio dare una risposta mi sono fatto anche la domanda è il classico dei miei ammussi faccio e faccio ancora sappiamo quello che farei è questo faciliterei la natalità imprenditoriale aumenterei la natalità imprenditoriale una cosa sola posso fare questo farei perché a valle di questo c'è tutto il resto 137.000 imprese a Ramblusso noi dobbiamo arrivare a 200.000 imprese 200.000 imprese fanno essere Ramblusso le marche e le marche non sono Ramblusso perché nelle marche ci sono 220.000 imprese Lorenzo su questo devi essere contundente nelle tue trasmissioni quando inviti il presidente alla camera di commercio il presidente della camera di commercio il presidente della camera di commercio l'assessore questa è la sfida come immaginare la declinazione della funzione pubblica per aumentare la natalità imprenditoriale si è fatto questo si è fatto si è fatto nel Texas si è fatto nelle marche nelle marche dell'università di Ancona dove c'è Carlo Carboni Mario si è fatto in Catalogna si fa in Baviera lo ha fatto anche Formigoni nei primi due mandati si deve fare anche qui grazie 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 a tutti 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 allora no perché ieri poi chiuderò perché ieri sera c'è stato un intervento molto interessante del consulente della Merkel del presidente della Repubblica Germania che andava parlava di etica e di economia lui come professore si diceva o studi economia o studi l'etica invece lui andando a scomodare Emanuele Kant ha dimostrato che invece le opportunità ci sono quando si fonde economia e etica è stato veramente un intervento di grande interesse ma perché hai parlato di questo lo dirò alla fine Alessandro mi lascio a spaziale no no mi lascio a spaziale vorrei che potessimo chiudere questo discorso della distanza che ho posto come domanda fra il cittadino e l'Europa per cercare come ho detto da un giovane un giovane intelligente come è Alessandro cercare di capire qual è la sua posizione perché poi dovremmo chiudere passare dalla poesia alla prosa ho detto a faremo la domanda sul porto che non potevano messaggi prego direttore per cercare di rispondere ci provo con questa riflessione che faccio più o meno ogni mattina io mi interrogo circa il mio ruolo sicuro oggi all'imposizione ma come può essere oggettivamente utile necessario a fare in modo che quello che c'è non rimanga esattamente com'è e si aggiunga qualcosa in più o si deve qualcosa che non funziona o ci si mette a qualcosa che funziona questo è il tema che poi un amministratore che governa una provincia un comune un legislatore e che di fatto viene convocato dalle riflessioni di Luciano D'Alfonso che cosa deve accadere sul territorio intanto dobbiamo stabilire che deve accadere qualcosa sul territorio perché ogni fatto nuovo produce delle conseguenze in Abruzzo non accade nulla di nuovo e non solo in questi tre anni non accade nulla di nuovo più o meno nel 1990 92 D'Alfonso in qualche sua riflessione pubblica dice da allora ad oggi mancano 50.000 nuove opportunità di lavoro ne mancano di più perché a quelle si sommano ciò che ha provocato la crisi e quindi noi stiamo in una regione che deve tendere non se non alla prima occupazione ma ad un'occupazione matura con 60-70.000 posti di lavoro che mancano all'appello 60-70.000 opportunità e non è neanche questo il dato che mi preoccupa il dato che invece mi preoccupa questo sì da tre maripoli se quel 22-23 ogni anno diventa 24-25-26% dei cosiddetti inattivi il popolo invisibile coloro i quali la mattina si alzano non studiano non lavorano non cercano un posto di lavoro perché credono che per loro questo non è il proprio tempo per cui si alzano la mattina e sanno che non gli tocca nulla che non conviene occuparsi della propria vita perché non c'è nessuno che si occupa della propria vita parlo delle istituzioni parlo della politica qui si annida la distanza perché poi questi sono quasi sempre figli e nipoti di notti che li devono campare è qui che si annida il male della distanza che fa giudicare inutile tutta la politica e quando scatta questo è difficile fare discernimento cioè verificare ciò che è diverso perché dopo diventa tutto uguale diventa uguale chi fa e chi non fa chi dice e chi non dice è qui che si annida il male ed è solo un problema economico certo è un problema legato all'economia alla crisi ma di fronte ai drammi che avvengono nella vita tu devi reagire e la reazione di una regione parte dalla consapevolezza di ciò che è di ciò che ha e di ciò che vorrebbe essere e di ciò che vorrebbe avere io vi voglio fare un esempio ultimo in ordine di tempo D'Alfonso ha evocato le alleanze tra Marche e Molise noi le abbiamo definite in un convegno prendendo a spunto la sua riflessione che poi Confindustria ha sviluppato fino a un certo punto la Marche Adriana che l'abbiamo portata a terra abbiamo chiamato il presente la regione Marche mentre in Abruzzo si è aperto con un dibattito circa l'opportunità di mettere insieme il nostro nord e il nostro sud cioè le nostre prossimità per cercare di contare di più dentro il contesto nazionale ed europeo per esempio per la partita dei porti e non solo l'altro giorno il presidente Spagna e il presidente Marini dell'Umbria firmano un emendamento congiunto e lo presentano alla commissione di politica di coesione territoriale della commissione europea e cambiano la fanno grosseto ad essere il collegamento dell'Adriatico con il terreno e lo fanno nella sede deputata cioè in quella commissione manca la firma dell'Abruzzo sa che significa questo? che noi al nostro sud non accade nulla perché siamo deviati da Val a Napoli sul trasporto sul ferro e da Napoli verso Roma del nord e al nostro nord Marche e Ungre vedendosi tagliati fuori dalla dorsale Adriatica si candidano ad essere l'unico corridoio che mette insieme Adriatica e il terreno dovevamo essere noi il corridoio di ciò che è stato in là dal mare Adriatica e di ciò che è stato qua dal terreno noi stiamo rischiando di perdere questa partita chi se ne occupa di questo? e guardi che ci sono milioni di euro stiamo parlando delle reti tintine delle reti transeuropee stiamo parlando della programmazione che si aggiunge in concludo ai corridoi che vedono tutti i corridoi in cui l'Europa è stata disegnata questo pezzo di incubo di deserto cioè Centro Italia Marche Bonise Abruzzo fuori dai corridoi e loro lo risolvono collegandosi con le reti transeuropee e noi siamo esattamente fuori non siamo neanche sud perché il sud oggi con gli investimenti che tra l'Italia e il governo hanno stabilito nel piano per il sud guardano da Bari a Napoli e da Napoli a Nord quindi noi stiamo esattamente in un incubo dove non accade nulla di questo si dovrebbe occupare la politica di questo si dovrebbe occupare le istituzioni i FAS servono se tu li orienti ma se tu con i FAS ci fuori il banco per risolvere problemi giornalivi bene un respiro campi certo grazie vogliamo chiudere questo interessante incontro con una domanda una domanda che riguarda anche l'economia di questa città però avevo promesso di spiegare poi per far chiudere il motivo del mio scomodamento di Emanuele Kant per Etica e Impresa poi pensate per un attimo quanto è facile per i miei colleghi conduttori di trasmissioni nazionali avere ospiti per esempio Marchionne Landini i quali creano vita il conduttore può anche stare zetto cioè la trasmissione può andare da sola perché i personaggi che ci sono sono talmente carichi talmente presenti che il conduttore può anche solo guardare pensate quanto è triste quando si hanno ospiti che dicono sì no è complicata la vita è sicuro una volta mi è capitato e poi passo a corino testa non è sempre così perché spesso ho avuto un interlocutore molto bravo guardate questa sera ecco perché io sono più vivo voglio spiegare ad Alfonso mi è capitato anche di qualcuno che da sei mesi studiava l'Eneide e non sapeva se Enea era maschio o femmina ballone testa sul discorso della passando dalla poesia alla prosa e per l'economia di questa città io non ho ancora capito guerrino che cosa sta succedendo cioè il DTT c'è o non c'è nelle analisi l'ISPRA ci ha dato qualche soluzione o dobbiamo ancora andare presso al comandante della Capitaneria che giustamente ci sta dicendo chiudiamo tutto questa è una città di mare non è di montagna testa prima di rispondere a questa ultima domanda voglio fare due considerazioni in margine di tutto ciò che si è stato detto innanzitutto queste due ore trascorse insieme dimostrano come convegni e momenti di approfondimento come questo di questo pomeriggono per ringraziarmi l'amico Beppino stanziale e i compagni che lo hanno aiutato per organizzare questo evento probabilmente giornate del genere ne servono più di due tre quattro consigli provinciali regionali comunali insieme certo poi dopo forse facciamo l'errore che poi quando ci sediamo all'interno di un consiglio comunale provinciale regionale la faziosità fa sì che poi le idee non vengono portate avanti un altro un altro concetto che volevo un altro flash che volevo buttare a margine questo incontro è come tutto ciò che è stato detto è verissimo però dobbiamo ahimè fare i conti con un fatto oggettivo ed è lo scadimento della qualità dei politici di oggi giorno io faccio un riferimento che forse in questo tranne stanziali tra chi oggi fa politica più creativa tra me Camillo e Luciano forse Luciano D'Alfonso è di qualche anno più anziano di noi però più anziano però un'esperienza sicuramente importante probabilmente ricorderà come ai tempi della democrazia cristiana anche l'ultimo degli ultimi quello che forse avessimo un cantuccio oggi sarebbe stato uno dei primi io faccio riferimento all'anno 2003 quando io ho iniziato a fare politica all'interno del consiglio comunale di Pescara quando conosciamo Alfonso era sindaco io e l'amica di Voletta che lì eravamo diciamo i bimellini del consiglio comunale che lo sapevamo leggere e scrivere e c'erano io parlo nel centro-destra piaccio a piaccio c'erano senatori sottosegretari consigli regionali quindi persone che davano lustro al consiglio comunale oggi il consiglio di Pescara ma anche delle altre città copolone e dei comuni sta diventando sempre più deprimente un po' per l'antipolitica un po' per l'atmosfera strana che si respira quindi io penso che ciò che deve ciò che deve fare il compito di questi conventi è proprio quello di cercare di riavvicinare le persone e nei momenti elettivi non delegati sempre gli altri ma quelli che possono sprigionare maggiori energie maggiori idee devono candidarsi questo voglio dire in maniera in maniera vedetevi più spesso se queste sono veramente importanti per quanto concerne la domanda il porto io sotto questo spazio voglio alzare i piedi e chiedo non solo agli amici relatori ma alla platea di portare 5 inutili di pazienza perché quello che si sta andando è una situazione paradossale caffiana che penso difficilmente si potrà vivere vedo anche Paolo Marcheggiani consigliere comunale di Pescara che il quale interessa sicuramente così come al pari di tanti cittadini le sorte del porto di Pescara ciao vi chiedo anche a te di ascoltare questo che tu poi hai sempre detto che delle infrastrutture si è innamorate quindi si è innamorato anche il porto di Pescara io non faccio gli amici per dire se sono stato bravo in questi mesi o se sono stato nasino ma riporto fedelmente per caso che il presidente direttore dell'alta la dico Maria Ricone sia andato via però anche lui poteva testimonare quello che sta accadendo perché io ritenvo che forse non solo i politici o i giornalisti ma la maggior parte dei cittadini di Pescara ma anche dei comuni confinanti non sa cosa sta accadendo il 20 giugno 2011 sono previssimo direttore sono stato nominato con il Cielo quindi da parte della presidenza del Consiglio di Ministri commissario d'acqua commissario stradale del porto di Pescara da lì è stata fatta una battaglia giornaliera con il Ministero dell'Ambiente fino ad arrivare al 28-29 settembre scorso quando il Ministero dell'Ambiente sulla base di analisi effettuate dall'alta della nostra agenzia regionale che sono state validate dall'ISPRA che è l'organismo principe del Ministero dell'Ambiente ci hanno dato l'autorizzazione per inserire l'intraggaggio e di conferimento in mare di circa 76.000 metri pubblici noi dobbiamo scaricare dal porto di Pescara circa 400.000 metri pubblici che sono dislocati tra il porto canale la canalina per capirci dove esistono i trabocchi e la tarsena commerciale dove entra la stamp dove entrano le frittoline per fare il carico di persone abbiamo la possibilità di scaricare 116.000 metri pubblici abbiamo ridotto a 76.000 proprio per cercare di avere meno problemi abbiamo nel frattempo tra il 29 settembre avuto al 12 vicende i dati in cui iniziate l'artità di tragaggio ha avuto altri problemi con il Ministero che c'è in posto dei vincoli sempre più stringenti per fare un monitoraggio pre, durante e post il tragaggio abbiamo dovuto acquistare delle imprezzature costose che proviene dalla Svezia perché sono di Svezia eccetera e il 12 dicembre ahimè abbiamo iniziato l'artità di tragaggio tragaggio e non di conferimento in mare perché dopo un'ora e mezzo la procura dell'Aquila distrittuale di mafia della procura dell'Aquila ha sequestrato la barca la motonave e ha sequestrato anche il cantiere dopo un'ora e mezza che si sta iniziando a fare la vita di tragaggio io un giorno dopo parlando con i nove che hanno il suo studio il procuratore ho detto io non sono un verino testa SRN io sono un comissario di governo quindi ci dovrebbe stare con l'operazione 30 perché non mi avrete detto che c'era una qualche sposto c'era delle analisi che voi avevate che andavano in contraddittore o quelle di tavolata così io non facevo delle imbarcazioni non acquistavo delle imbarcazioni della svelte non spendevo in sostanza soldi pubblici non sono soldi di querino testa parliamo di soldi pubblici e sino ad oggi abbiamo impegnato circa un milione e sette un milione e ottocento di euro perché le analisi dell'altra costa perché esiste un tariffario regionale perché fare 76 mila metri cubi di tragaggio costa circa 800 mila euro perché utilizzare l'università dell'Aquila costa e quindi sono tutti costi che non abbiamo ancora sostenuto quando abbiamo impegnato quindi in quattro stanzi dopo un'ora e mezza di tragaggio è andata di volta a questa scena che vi dico mi ha fatto quasi venire la prima di occhi perché dopo tanti mesi di un lavoro vedete arrivare in macchina con un sequestro così da da film da ficcio un po' anzi molto indistagiato e da lì ad oggi nulla è cambiato la situazione è rimasta identica pur essendo stato convocato a Roma svarete volte oggi mi sono alzato varie volte perché parlavo prima con Borrelli che è probabilmente vice del prefetto Carbietti che ho parlato con sottosegretari con ministri con il prefetto Carbietti più volte con l'ISPRA con l'Altra in quattro stanza siamo arrivati poi al 13 gennaio dove in prefettura quindi con presenza del prefetto dell'ISPRA dell'Altra del sottoscritto dei noi e della società incaricata da un laboratorio privato Carapala di Brescia da Indam SRL siamo arrivati a dire fatemi sapere quale sono state le metodi oggi usate le mettiamo in comparazione e poi diamo in presso l'ISPRA dal 13 dicembre gennaio scorso ad oggi questa sera in TEC ce l'ha hanno terminato le 10 e mezza alle 18 e 15 circa del biome a Roma ancora nell'ISPRA nell'ISS istituto superiore della sanità è riuscita all'interno del porto canale di Pescara esiste o meno il DTT non ricordate il DTT che secondo io sono ignorante ma secondo molti altri oggi mi sono incontro pure con il professor di angliciologia all'estate di Pescara il DTT non esiste dalmeno che tanto però oggi c'è un esposto fatto il VVF io ho grande rispetto ai confronti delle associazioni vittalistiche però capiamo bene che se oggi dobbiamo avere anche una stagione più progredita dobbiamo in qualche maniera cercare di correre tutti nella stessa dimensione perché se qualcuno mette lo scarpetto anche in questo caso la città di Pescara ci avrò visto che probabilmente non si rialzano più cosa vuol dire questo che la marineria è andata in parte ad Ortona in parte a Guganova chi l'ha stato probabilmente almeno quest'anno tornerà ma non per problemi di statura politica o perché poter essere un posto di ci potrebbe essere uno bravo o meno bravo ma la posizione sarebbe stata esattamente la medesima abbiamo indotto circa 20-30 35 milioni di euro che probabilmente non si dedica non avrà le gambe per camminare e poi io vi domando questa mattina insieme all'amico Maria Nicola siamo andati a terroga di mattina a terra a parlare di 30 e di oggi e poi l'ho detto a questo punto i popoletti interrogati sono forse meglio che l'alta la sopprimiamo perché se l'alta che è l'ente regionale non c'è la dove sulla base nazionale l'alta potrebbe essere concentrati tra le migliori alta o alta regionale che è fatta da tecnici di livello oggi c'è un direttore tecnico Giovanni Sambiani che molti conoscete che si è fatto fino alle 18 e 15 per il porto di Mescata viene in qualche maniera messa in un cartuccio da un primo laboratorio come tanti esistono di natura privatistica ma a questo punto c'è qualcosa che non vuole allora a questo punto se domani l'alta fa le analisi per il problema di bussi l'alta ha fatto le analisi allora confrontiamo pure quelle analisi se domani l'alta fa le analisi le analisi sulla bagnabilità del mare di Mescata a questo punto può arrivare in primo laboratorio di carica di e mette in in quale in quale c'è la canellata di quest'anno quindi c'è un problema serio che si chiama burocrazia anche a di noi che non è più possibile sopportare i dati che le idee possono essere vincenze da lo luciano ci possono essere i soldi ma se c'è qualche qualcuno che ti vuole remare contro tu anche se sei bravo probabilmente non tanto traguardo ma diverti un metodo noi abbiamo un problema serio che tutti prendano coscienza di quello che sta accadendo perché oggi può accadere il porto di Pescata ma non può accadere l'infrastruttura ma il porto di Pescata per cause che io non riesco a comprendere è messo fuori giù ormai quasi totalmente chiuso e probabilmente l'ultimo di questo atturbato di Stato del 2011 potrà essere atturbato un'altra volta perché c'è una classe monitoriale formata da circa 80-90 armatori che stiamo ad oggi hanno sopportato una situazione che ormai è arrivata di live di intollerantità alta che non so come è girato bene quindi a questo punto e ad oggi chiudo l'ultima l'ultima informazione parla di Giovanni da Bianchi proprio alle 18 e quindi 20 ore fa stiamo aspettando che martedì prossimo ISS potrà dare un risponso definitivo ma qui ormai stiamo traslando il tempo da troppi mesi e quindi io l'ho detto anche io che sono meno malottimista penso che il martedì non si è il giorno della rete bisogna l'ontare ancora bene e quindi ci fermo speriamo che attivate il fatto economico che ho messo quando noi abbiamo avuto io come commissario l'autorizzazione per iniziare a dragare e contenere il mare questa autorizzazione si è passata su analisi effettuate dall'alta e validate dall'ESTA oggi l'ESTA mi dice no le analisi che vanno muore un cantuccio perché c'è qualcun altro che ha detto che i valori sono totalmente diversi cioè a questo punto si potrebbe anche eseguiti tutte le imprese alcun sese che si hanno avuto contatto con l'alta perché l'alta non è più a seconda dell'ESTA o di qualcuno che può giocare sforzo non è all'altezza per affrontare il suo nome e questo è un problema molto serio perché quando si parla di alta si parla di ambiente bene io vorrei chiudere con delle battute veloce che siamo proprio in chiusura anche perché poi vorrei far riflettere tutti voi questa è una questione economica pensate per un attimo alle 5 terre pensate ad una pioggia violentissime a fatti di quel genere con la situazione che c'era sono cose serie quindi bisognerebbe riflettere ancora di più io voglio dire una cosa che andrebbe detta col microfono solo per farla sentire poi andrebbe detta in silenzio e quella che dico ha una sola direzione di marcia io non ritengo che quelli potest abbia scontato dei ritardi o delle inadeguatezze io però penso che ci sia stata una risposta istituzionale al problema del porto assolutamente non a valtezza vediamo di metterla in filo quando venivo qui l'unico argomento sul quale mi sono concentrato è questo e adesso cerco di pesare le parole perché io devo fare salva la coerenza rispetto alla funzione svolta dalla tua persona e non per dovere di cordialità perché lo prezzo sinceramente e poi ti dico anche perché però dall'altra parte vorrei stare chiaro in ordine ad un atto intelligente di accusa che io faccio ma è un atto di accusa che si porterebbe dietro di sé una serie di attenuanti perché ho la sensazione veramente di una serie di casuali che si stanno occupando di questo problema e adesso cerco di essere chiaro vedi Guerino tu hai avuto un risultato importante che per esempio a me Presidente della provincia Sindaco di Nescava i miei compagni di partito che io ho fatto eleggere il Presidente della TV due volte due volte Falcone e poi del Pucco mai mi hanno reso possibile io dissi che avrei voluto poteri commissariati per bonificare il fiume pescario evitando che venisse uno da loro in Bergan qualche amico mio a fare questo lavoro e poi dissi che volevo essere nominato commissario con tempi stabiliti per mettere mano alla vicenda degli eventi sportivi internazionali che l'avremmo potuto fare meglio noi di qualsiasi altro e anche allora chi si è costituito contro è una presidenza della mia regione per ragioni di competizione sciocca politica perché poi per vincere le elezioni ci vogliono i voti dei cittadini non ci vuole l'incastro ingannevole su questo tu sei stato trattato meglio e ti va riconosciuto meglio probabilmente anche perché diciamo tu ti sai guadagnare una maggiore concordia determini un minore spavento non lo so il supplemento di educazione che hai te lo riconosco a me dov'è che invece non ci siamo l'Emilia Romagna quando ho un problema Mario Colledetto lo lo cito per metterlo sul registro degli imputati quando l'Emilia Romagna ha un problema a Roma non gli chiede più i soldi a Roma gli chiede i soldi che gli tocca e quelli sono scontati poi gli chiede le risorse normative le precisazioni normative gli emendamenti testi di legge che vanno nella finanziaria nella variazione di bilancio dello Stato che è una legge in tutti i provvedimenti riguardanti l'accelerazione sottosiluppo ci sta sempre tre righe riguardanti questa o quella priorità dell'Emilia questa o quella priorità della Lombardia delle Puglie e della Campania come si fa da l'Evola? questo lo si ha o lo si aveva prima quando si aveva un gigante nella terra dell'Evola ed era Gaspari qui che l'avrebbe potuto fare e lo ha fatto qui le autostrade pescare a Roma sono un'altra non perché è arrivato uno con un mucchio di soldi a fare le autostrade perché alla fine la storia dell'autostrade è una storia di vendita allo Stato delle centrali di produzione dell'energia elettrica di incasso dei buoni postali e di reinsedimento di quei flussi finanziari in quegli investimenti ma non fu questo che fece l'autostrade fu una norma che venne raggiunta da Gaspari dall'Italia dall'onorevole l'ex Missino l'ex parlamentare Missino di Pescara del vino le norme qui c'è la bisogno di organizzare un patto per produrre norma il dramma qual è? non che non l'hanno fatto ma è o meno e che non hanno mai pensato che andasse qua questo è il dramma ha letto l'opera c'è un'espressione però non la posso usare che è violenta è una storia attorno ai ciechi è una storia attorno ai ciechi ma non si può usare oggi non abbiamo il gigante e può accadere che una terra per un periodo non abbia la grandezza di uno che sviluppi rappresentarsi che cos'è che abbiamo oggi che non va usato che non viene usato il presidente della regione Lorenzo una volta al mese siete della conferenza Stato-Regioni e lì tu non ci vai da cittadino di Fontamara a parlare con quello lì Errani Rossi Formigoni quando parlano in sede di conferenza Stato-Regioni Financo Iorio il mio amico Iorio parla alla pari con il ministro e al ministro tu gli dici io ho bisogno di quella norma il problema è l'inadeguatezza della norma c'è una inadeguatezza della norma e c'è una superfetazione amministrativa lui è un commissario superfetato senza la norma questo è il punto anche questa è una discussione di parole masterplan e farsi guardate tolto il vestito sono soldi pubblici come arrivavano 30 anni fa dal bilancio del tesoro dello Stato ma stiamo scherzando gli impatti che si fanno su queste parole che cos'è che fa stabilire le priorità e il compito della politica stabilire le priorità e non c'è ombra di dubbio che qui la priorità è il polo e non c'è ombra di dubbio che si può andare a parlare col procuratore capo dell'anno col ministro di grazia e giustizia tentativi utili non risolutivi e poi la norma ci vuole la norma noi abbiamo in Ambruso 17 parlamentari il 10% di questi 17 sono capaci di essere utili a condizione che vengono edotti condotti il 10% di questi 17 quindi grazie veramente per questa bella grazie a tutti vi annuncio il prossimo convegno politica e partiti non è fuggito il moderatore grazie felice sera a tutti arrivederci grazie a tutti